Un appuntamento che è diventato una delle migliori espressioni del mondo moto turistico del sud Italia e che riesce sempre a calamitare migliaia di appassionati. La seconda edizione del Moto Festival che si è svolta lo scorso 15 e 16 maggio all'autodono Valle dei Tempi di Racalmuto ha mantenuto le aspettative. Ma non è finita, al Moto Festival di Racalmuto è stata l'occasione per ammirare l'Acrobatic Quad, lo show di 5 riders con il quad, spettacolo assicurato fra testa a coda, burnout, guida in verticale. Una delle altre azioni del Moto Festival è sicuramente anche l'Acrobatic Quad, un modo di fare spettacolo in maniera diversa rispetto alle solite moto. Abbiamo appunto il quad con Salvo Gallaro, parliamo di questo spettacolo, tanta gente oggi a Racalmuto è naturalmente spettacolo assicurato. Ma oggi c'è credo più di 20.000 persone, l'anno scorso c'è stata una presente 10.000 persone e oggi c'è un numero positivo. Cerchiamo di fare divertire la gente con i nostri numeri senza farci male. C'è un numero positivo. 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 C'è un numero positivo.